La riunione è stata una riunione molto operativa, molto concreta. Ogni giorno vengono posti temi sui quali vengono date risposte in tempo reale da parte del governo. Oggi c'era il nodo di alcune stazioni sciistiche aperte nelle aree diciamo che avevano delle prescrizioni di minore intensità rispetto alla Lombardia le 11 province e abbiamo dovuto prendere atto, nostro malgrado, dopo le segnalazioni di alcuni amministratori, di alcuni presidenti di regione che il buonsenso che spesso abbiamo chiesto non solo non c'è stato ma in alcuni casi c'è stata anche un'operazione di marketing a dir poco vergognosa. Ci riferiamo alla sollecitazione ad alcuni studenti che erano liberi dagli impegni scolastici ad andare in montagna. Questa cosa è inammissibile, l'abbiamo stigmatizzata tutti all'unanimità, il governo e le regioni. Visto che in alcune aree, il messaggio non è passato attraverso l'autodisciplina che famiglie e coloro che in qualche modo potevano organizzare questi trasferimenti di vacanze assolutamente fuori luogo abbiamo deciso all'unanimità con le regioni e con il governo di chiudere tutti gli impianti sciistici del paese attraverso un'ordinanza della protezione civile. C'è ovviamente la condivisione di tutto il sistema delle autonomie locali e riteniamo che operazioni pubblicitarie e di marketing come quelle fatte sull'Abetone siano non solo da stigmatizzare ma siano esattamente l'esempio di quello che non va fatto. L'abbiamo detto a chiare lettere e siamo intervenuti immediatamente, quindi ringrazio i presidenti delle regioni che ci hanno segnalato prontamente queste azioni, siamo intervenuti e non c'è nessuna discussione, domani mattina si chiude tutto.